Ok, benvenuti ragazzi, sono Gisius e io sono Alex e oggi riprendiamo con Deep Sleep. Ok ragazzi, torniamo a esaminare... Eravamo dal faro? Sì, eravamo dal faro prima, però volevo tornare a esaminare, se vi ricordate, qua dove c'era il wake up... Sì, vabbè, non puoi accederti... Perché c'era la casa dove non potevi entrare... Sì, è vero, c'era una parte della casa dove non si poteva entrare, questo è super inquietante. Cosa è strano? Dettagli. Ok. Qua dove c'è Dio, ma invece di Dio troviamo una casa del cavolo. C'è perché... Eh, allora, qua dice che non posso raggiungere, se io uso la rete è cazzata, è cazzata. E qua invece... Cos'è sto coso? Cos'è? Cos'è? Un arpione? Bello. Un arpione con un arpio. Combinato alla rete. Sì, certo, certo. E noi, come si erogico? E adesso spariamo l'arpione, ci aggancia... E che cos'è ti sei... Ah, per salirsi... Uno sale... Una registrazione, il wake up! You have to wake up! Bello. E se andiamo a sentire da un parla più? Eh, beh, per forza. Comunque pagava lo stesso. Sembra qualcuno di familiare, è un cavallo. Ah no, il cavallino! È il cavallino giocattolo! La chiave apre qualcosa? Mi apre una chiave d'oro. Cos'è? Cosa? Una gemma scintillata. Questo ragazzi sembra il cavallino giocattolo che abbiamo trovato. Eh, quindi non lo so, magari dobbiamo andare al cavallino giocattolo. E dobbiamo metterci la gemma! Nel cavallo, nell'occhio. No. Perché no? Perché no? Sì. No! È vecchio. Eh, squiggly? Cosa è squiggly? È rumoroso? No, ragazzi, ho fatto una cazzola. Sì. A meno che la infiliamo nel culo, cioè, ma non sarebbe una buona idea. No. Non è una buona idea. No, ragazzi, ho proprio squigglytato. A meno che... Cosa può significare? Eh, non capisco. Without... Senza il suo... Wishing. No. Tiger. No. Ah, tigre desidera... Ah, forse dobbiamo pesare questo? No. Ha stato d'oro, diciamo. No. Forse dobbiamo metterla nel faro, però, la gemma. Eh. Eh, può darsi, dai. Eh, ragazzi, non so, un po' a caso anch'io, perché... Nel faro dove ci sono le vestane. Eh, ragazzi... Cioè... Via dal dipinto in cui tanto... Alla bello. Se non funziona, mica. No, funziona. Perché è come una gemma, il faro si accende, ma è logico. È dove va rientata? È logico. Ah, ecco cosa sei. Erano sette a merde. E poi, ma dove va rientrare? Sulla porta. Sì. Qui ci fa luce. No, là ci fa luce. A dire da solo. Vediamo se magari... Ma bisognerà mettere la cosa in avanti. Prova così, dopo vai a vedere dove è a punta. Eh, a punta. C'è una volta dove è a punta. Facca, c'è tutta la famiglia del Slender. No, no. Tutti sulle scalle. Anche lì. Anche lì. Perché? Perché amici miei? Perché? Perché mi è? Perché mi è? No, no, fangulo, fangulo, amico, fangulo. Che devo fare? Non lo so, fangulo, fangulo. Ok. Perché c'era tutta la famiglia di quei tizi? Spiegamelo. Ok. Perché? Rimettiamo la gemma, ma ce ne stiamo qua. Ragazzi, niente. Sì, è un cazzo. Proviamo a scendere ancora. Scendiamo. E c'è tutta la famiglia. C'è tutta la famiglia. È completo. Guardate, la clima che bella che è. Che bella, bella. Guardate, la clima che bella che è. Buttiamogli la luce al tasto. Prima che si ammazza. Così, così, così. No. Girati. Sì, l'abbiamo coppato. L'abbiamo coppato con la luce. La luce, sì. La luce. La luce. La luce ammazza tutti. E poi si trasforma in formiglia. E dopo, come quello, mi sono... Come quello mi sono svegliato. Come quello. L'incubo era finito. Ma la mia vita è cambiata per sempre. E ti credo. Cos'è stato tutto questo? Solo un sogno? O erano queste creature reali? Devo saperlo. Devo sapere la verità. Non posso fermare di pensare riguardo a quello. Devo tornare indietro. Ma sei colore. Tornare nel sogno profondo. E quindi ci sarà il 2. Sicuramente. E dopo non abbiamo fatto il 3. Oh, che bello. Quindi, niente. E non ci sono i dita di coda che bastare. E appunto, i terzi c'erano. Ok ragazzi, è finito qua questo video. È un po' cortino, spero. Ci avrei detto da voi che meno durano meglio i video. Sì, dai. Pazienza. Quindi, ragazzi, se il video è piaciuto lasciate un commento. Mettete un mi piace. Iscrivetevi e noi ci vediamo nel... In Deeper Sleep. Quindi... Cioè, il secondo. Cioè, il secondo. Ricordiamo. Ricordiamo. Bella, ragazzi. Ti ho disturbato? Stai bene? Ti fa male da qualche parte? È meglio se non cerchi di alzarti subito. Mega Man. No, aspetta. Geo? Cosa ci fai tu nella mia camera da letto? Eh, beh, guarda. Non arrabbiarti, ma... Eri svenuto e dovevo portarti a casa. Quindi ho dovuto guardare nel tuo transfer. Hai fatto cosa? Hai aiutato a vedere il mio transfer? Come hai potuto? Ma che lazza di pervertito? Che ho detto del pervertito ora? No, ti prego. Ho solo cercato un condirizzo.